Allora, chiedo la vostra concentrazione, cioè quello che noi stiamo facendo qui è un'indicazione di come voi vi dovete approcciare. È chiaro che i progressi si vedono nel tempo, noi qui faremo due ore, io chiaramente vado veloce e cerco di farvi vedere come si possono gestire queste situazioni, però chiaramente per i vostri ragazzi voi avete tutto il tempo di lavorare su certe cose fin quando loro non le hanno padroneggiato, quindi per esempio su questo si lavora, si lavora, si lavora e poi si va davanti perché chiaramente c'è bisogno di un tempo, settimane, mesi, capite? Cioè il processo di apprendimento non si ferma mai, qui in un giorno, in due ore oggi e un'ora stasera vi faccio capire come vi dovete comportare. Allora adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a fare, passare un pochino alla corsa, quello che vi chiedo è di fare una corsa, di rullare completamente sui talloni e di correre, ok? A passi corti, passi corti, ginocchia molto basse e rullare sui talloni. Ok, quindi è la stessa cosa della macchia, vedete? Adesso si marcia, adesso blocco un po' il ginocchio e faccio questo, d'accordo? Corsa con rullata, tallone, pianta, passi corti, sì sempre così fino a lì, dai.